Grazie a tutte le persone che sono qua, grazie da me e da tutti i sindaci dell'area metropolitana bolognese che sono qui presenti con la fascia tricolore, li ringrazio perché hanno risposto subito alla nostra chiamata, alla chiamata del Portico della Pace. Qui con me sta reggendo la bandiera dell'Ucraina Oksana Liniv, che è direttrice dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Dobbiamo chiedere di trasformare i carri armati in aratri, dobbiamo chiedere di trasformare gli investimenti in missili in investimenti in astronavi per la pace. Queste erano le parole di un grande sindaco di Firenze, Lapira, che oggi qui voglio ricordare, perché le città hanno un grande ruolo nella pace nel nostro continente. La Russia non va proprio giù che negli ultimi 30 anni l'Ucraina abbia preso la strada, la sua strada verso l'Europa.